Il mio? Il Marino è anche del mio partito, in caso se io, il fatto penso che debba essere apprezzato che la Presidente dell'Antimafia, a prescindere dalle appartenenze politiche, svolge il proprio lavoro all'insegna di quelli che sono, che è la missione dell'istituzione che presiede. E questo è un fatto, vero. Io sono interessata a che il Sindaco Marino faccia bene, come sarei interessata a che faccia bene qualunque Sindaco qui, se si vuole un po' di più. E quindi, come dire, devo essere anche più esigente se vogliamo.